Parla di responsabilità, affetto, solidarietà e cita Bertolt Brecht con la celebre frase «C'è sempre un giudice a Berlino». Così dalla sua baccheca Facebook Walter Arturo Scerbo, l'ex sindaco di Palizzi, commenta la scarcerazione. Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha infatti revocato gli arresti domiciliari disposti il 5 luglio scorso dal GIP del Tribunale di Locri nell'ambito dell'inchiesta Affare Comune. Scerbo lancia addirittura l'hashtag Palizzi Bella Comun Film e il popolo del social network si scatena in decine e decine di attestazioni di stima e vicinanza. Scerbo però continua a essere indagato a piede libero. Stando all'indagine dei Carabinieri, l'ex primo cittadino e gli ex consiglieri di maggioranza Antonino Proietto e Davide Palermiti, finiti anche loro ai domiciliari, avrebbero a vario titolo sottratto o distratto con mandati di pagamento illeciti fondi comunitari. Tra questi fondi c'erano quelli per l'accoglienza ai migranti o per le tartarughe caretta caretta. Adesso il prefetto Michele Di Bari dovrà decidere se mantenere la revoca dell'incarico o farlo ritornare ad amministrare il Comune di Palizzi, dalle cui casse per il PM di Locri sarebbero stati sottratti oltre 340.000 euro. Angela Panzera per la Cineus24